Vorrei stringere mentone ai familiari di Giovanna, Matilde, Tina, Antonella e Maria perché quella è una tragedia, cioè la tragedia oggi che queste donne sono morte. Dopodiché sì, è esattamente così. Lì c'è un problema di abusivismo edilizio, di mancati controlli e queste sono due cose di cui si ha responsabilità quando si governa nazionalmente un paese. Si abbassano i controlli su questo. L'altra grande tragedia è che queste cinque donne sono morte per 4 euro all'ora. Sono morte perché appunto per le ragioni che abbiamo detto ma perché nel nostro paese, in tutto il paese, c'è un grandissimo problema di lavoro nero soprattutto in un momento in cui c'è una grande precarietà, in cui si perde il lavoro e naturalmente si sfruttano le lavoratrici, in questo caso moltissimo. Una riflessione che vorrei fare è legata al fatto che così si muore nei paesi sottosviluppati. Io non posso pensare che nel mio paese, uno dei paesi più ricchi del mondo, che fa parte del G8, del G20, è uno dei paesi più industrializzati, possa accadere una tragedia del genere. Io credo, mi auguro almeno, che questa tragedia possa far riflettere tutti noi, tutti, tutti. perché il problema del lavoro nero e il problema della precarietà determina quello che è accaduto, c'è una grande tragedia.